Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel volume pubblicato da poco da Olski Editore dal titolo I banchetti, composizioni di vivande e tapparecchio generale di Cristoforo Messis Bugo, edizione e studio linguistico di Veronica Ricotta che abbiamo il piacere di avere nostra ospite e che ci porterà a tavola con questi banchetti e quindi come mi abitudine lascio subito la parola all'autrice perché ce ne possa parlare. Prego, a lei! Grazie, grazie mille. Un saluto anche da parte mia a tutti i videoascoltatori e grazie a Italia Medievale per l'invito. Allora, innanzitutto vorrei partire dal fatto che questo libro è il primo di una nuova collana che nasce presso l'editore Olski, che ha un titolo evocativo, Iter Gastronomicum. Si intende proprio portare in un viaggio gastronomico il lettore dei volumi di questa nuova collana che è stata ideata e diretta da Nicola De Blasi, Rita Fresu, Giovanna Frosini e Sergio Lubello. E questa collana è nata in seno alle ricerche di un progetto, un progetto PRIN, dal titolo Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall'età medievale all'unità, il cui acronimo è ATLITEG e di cui potete trovare, se volete, informazioni all'indirizzo www.atliteg.org. E questo progetto che si propone di ricostruire la geografia, ma anche la storia, dei testi e della lingua italiana del cibo, appunto dal Medioevo fino all'età preunitaria, diciamo, avendo come ultimo testo, cioè ci si ferma a ricettare di Artusi, ha tra gli obiettivi principali quello di accertare le fonti, sia, diciamo, attraverso la chiarificazione delle tradizioni testuali, che specie per l'età antica sono molto intricate, e anche attraverso nuove edizioni filologicamente attendibili, ma anche attraverso la realizzazione di studi trasversali che possano centrare meglio il ruolo degli iscriventi, dei centri di produzione, le tipologie testuali che appunto trattano questo argomento e l'intento è quello di realizzare una mappa dinamica della terminologia del cibo e la realizzazione anche di un vocabolario storico della lingua italiana del cibo, che sono strumenti che saranno presto messi a disposizione di tutti. E si è partiti per questo progetto da un presupposto, diciamo un pregiudizio sulla lingua del cibo, cioè che questa non fosse una lingua speciale, una lingua che avesse delle caratteristiche che la separassero in qualche modo dalla lingua comune e forse questo è dato anche dal fatto che senz'altro il cibo e quindi la sua lingua, la sua terminologia è pervasiva nelle nostre vite. Però proprio l'isolamento dei testi che sono specificamente legati al cibo che trattano di questa materia e quindi lo studio delle strategie discorsive che l'affrontano, le tipologie testuali che sono ricorrenti e il lessico, insomma gli studi linguistici e anche filologici hanno invece potuto dimostrare che si può parlare di lingua del cibo. Tra l'altro questa è un'etichetta che dobbiamo a Giovanna Prosini che è un po' onnicomprensiva, si ha delle preparazioni, si ha dei nomi delle vivande e abbiamo fatto emergere delle caratteristiche di questa lingua del cibo che sono in parte la stabilità delle strutture testuali. Se pensiamo a una ricetta del Medioevo non è poi così distante appunto nelle sue strutture fondamentali da una ricetta che troviamo oggi nel web e allo stesso tempo la grande ricchezza geolinguistica e la grande presenza di termini diversi per referenti simili che caratterizza appunto la grande varietà linguistica e culturale della nostra penisola con uno sguardo anche all'Europa e direi al mondo se pensiamo che il secondo volume di questa collana inter gastronomicum è dedicato all'apporto arabo-normanno alla lingua del cibo e per venire che è un volume curato da Anna Martellotti e per venire a Messisbugo questo studio della tradizione testuale del cibo diciamo ha subito un po' un difetto nelle edizioni disponibili dei testi di cucina che quando reperibili erano sono state edite in modalità non filologiche con piallamenti della lingua originale dei vari testi e quindi si è proprio reso necessario per un testo come i banchetti composizioni di vivande e apparecchio generale di Messisbugo che è centrale nella storia dei testi gastronomici italiani proprio indagare attraverso le nuove metodologie della filologia della storia della lingua questo monumento testuale gastronomico della nostra cultura quindi la prima insomma sistemazione una sistemazione filologica questa è anche la prima edizione critica del testo il testo infatti è tramandato da due testimoni uno a stampa uscito nel 1549 a Ferrara che anche la città dove ha operato il suo autore Cristoforo Messisbugo che era spenditore alla corte di degli esten degli estenti tra affonso primo ercole secondo e quindi questa è la prima stampa la cosiddetta princeps e poi un secondo testimone stavolta invece manoscritto che proprio con l'analisi testuale filologica è emerso essere posteriore alla stampa che è una circostanza non inusuale nel rinascimento quando appunto la stampa ormai a metà rinascimento è già francata è già diffusa ma si continua comunque a pubblicare in versione manoscritta le opere in questo caso quello che ho potuto accertare è che il manoscritto proviene dalla stampa quindi è una sorta di copia della stampa probabilmente esemplata per essere donata infatti è un esemplare molto pulito che oggi è conservato alla biblioteca di Modena quindi accertato quale fosse diciamo il testimone migliore per la sostanza del testo che è generalmente corretto quindi il ricorso al manoscritto è c'è ma è abbastanza parco ecco che anche per la lingua per la ricostruzione dell'originale linguistico la stampa ci viene in soccorso rispetto a quello che si può leggere nel manoscritto e soprattutto rispetto anche alla prima edizione moderna di questo testo che risale al 1960 per i tipi di Neripozza tra l'altro il testo di Messis Bugo ha avuto una grande fortuna editoriale diciamo per tutto il 500 per tutto il 600 con oltre 18 edizioni quindi lo potremmo definire un long seller dei suoi tempi e in queste numerose ristampe però il testo circola con un titolo diverso libro nuovo e con qualche minima aggiunta e naturalmente anche degli errori e ecco che l'edizione del 1960 un po' mescola queste due fasi redazionali del testo e soprattutto dal punto di vista della lingua pialla delle invece dei tratti che sono interessantissimi per lo storico della lingua e anche per ritornare all'originalità del testo faccio un solo esempio tutti i naranzi che è questa forma un po' settentrionale di arance sono diventate nell'edizione Neripozza tutte arance appunto quindi con un ammodernamento arbitrario ecco perché appunto la ricostruzione originale da la forma settentrionale perché naturalmente settentrionale è l'autore e infatti la lingua dei banchetti è fondamentalmente una lingua di coinet ferrarese quindi particolarmente in linea con le caratteristiche del tempo quando cioè era già stata codificata la lingua per la scrittura alta letteraria e cioè il fiorentino naturalmente selezionato da Pietro Bembo e tra l'altro corroborato questo modello fiorentino anche dalla prassi degli scrittori dei maggiori scrittori e non possono nominare Ludovico Ariosto che proprio mette in atto le indicazioni di Bembo nella nella revisione dell'Orlando Furioso e Ariosto senz'altro era entrato in contatto con Messi Sbugo a corte a corte degli estenze e pensate che i banchetti ci tramandano l'unica testimonianza in diretta del fatto che una delle commedie di Ariosto la Cassaria era stata messa in scena proprio durante un banchetto un banchetto che Messi Sbugo descrive nella sua opera è un banchetto importante è un banchetto del 29 gennaio del 1529 che è il giorno in cui si celebra la venuta a corte di Renea di Francia Renata di Francia moglie di Ercole secondo e appunto per cui si allestisce questo banchetto incaricato è proprio Messi Sbugo di allestire questo sontuoso banchetto in cui si assiste anche alla messa in scena della Cassaria di Ariosto ecco che quindi il prestigio del ferentino senz'altro pesa su questa lingua ferrarese sì ma potremmo dire un po' in acquata ecco proprio in ragione sia del prestigio del ferentino è anche dell'uso della ricerca un po' di normalizzazione che vuole la stampa a quest'altezza a quest'altezza cronologica quindi nelle diciamo nei livelli della grafia della fonomorfologia troviamo un quadro in linea con quello della prima metà del XVI secolo con alcune evidenze però che rimandano certamente alle varietà settentrionali e in particolare a quella emiliana. Naturalmente c'è anche un po' l'interferenza del latino questo perché da spenditore di corte Messi Sbugo era abituato nel suo lavoro quotidiano ad avere a che fare anche con documenti latini o comunque con la cancelleria di corte ecco quindi dove il latino rimane così per dire anche nelle espressioni in volgare rimane così in filigrana soprattutto per alcune strutture. E interessantissimo dal punto di vista linguistico è anche l'analisi sintattico testuale che devo dire è sempre stata un po' tralasciata negli studi su testi di questo settore anche qui con la convinzione parte anche giusta che appunto come dicevo all'inizio si nota una certa stabilità delle strutture ma il testo di Messi Sbugo è un po' particolare fa un po' anche da spartiacque tra i testi diciamo i libri di ricette medievali e quello che poi darà avvio invece alla grande stagione della trattatistica rinascimentale perché intanto il testo è un testo come si capisce anche forse dal titolo tripartito. Abbiamo i banchetti che sono descrizioni dei banchetti veramente realizzati a corte che Messi Sbugo raccoglie, sono eventi che si sono succeduti tra il 1524 e il 1548 che poi è la data di morte dell'autore e quindi qui ci sono proprio le cronache dei banchetti con i menu e quindi tutte le portate sontuosissime veramente strabordanti e anche elegantemente presentate spesso ci sono statuette in zucchero che decorano la tavola e veramente una quantità enorme anche di materie prime pregiate io cito sempre il fatto che ci sono fiumi di ostriche per quasi ognuno di questi banchetti presentati da Messi Sbugo quindi con una varietà anche ittica e di selvaggina veramente straordinaria che un po' tra l'altro rispecchia quelli che erano i possedimenti della corte estense all'epoca che aveva appunto possedimenti anche in zone limitrofe al mare, zone fluviali e quindi veramente una varietà molto molto ampia di materie prime. Quindi questa è la prima parte banchetti sicuramente la parte centrale tra l'altro una parte inedita che noi non troviamo nel medioevo nei libri di cucina troviamo cronache di banchetto prima di Messi Sbugo ma sono isolate isolate appunto a eventi molto importanti mi viene in mente il banchetto allestito per il matrimonio di Lorenzo De Medici con Clarice Orsini ma sono appunto episodi relazioni di ambasciatori quindi sono testi episodici qui invece diventano il centro di una trattazione che è ben organizzata oltre ai banchetti fulcro appunto del testo dell'opera abbiamo all'inizio un memoriale cioè una sorta di vademecum su che cosa serve per organizzare un banchetto con i fiocchi dalle masserizie anche il personale da impiegare per la realizzazione di un di un banchetto con tutti i crismi e questa parte diciamo una parte che dal punto di vista della lingua della testualità è molto ricca di lessico naturalmente proprio il lessico delle cose no le parole e le cose e però dal punto di vista sintattico testuale senz'altro è meno interessante perché si tratta di un elenco fondamentalmente quindi proprio il testo è numerativo come ce lo immaginiamo. La terza parte che pure diciamo è fondamentale importante nell'opera è il ricettario un ricettario enorme ampissimo di 323 ricette e anche questo presenta nella sua organizzazione una novità le ricette sono infatti per la prima volta anche qui potremmo dire organizzate secondo un criterio ben stabilito stabilito alla base dell'organizzazione delle ricette e cioè in base alla tipologia quindi si comincia con quello che si mette per prima a tavola per esempio le ciambelline segnaposto che facevano da accompagnamento per ciascun convitato si passa alle zuppe le torte le paste ripiene e si arriva naturalmente alla preparazione di carni e pesci con una distinzione che è tipica dell'epoca già già nel medioevo a dire il vero con preparazioni di magro e preparazioni invece che potevano essere portate in tavola quando non si era nei periodi di quaresima o di altre gli altri eventi previsti dal calendario liturgico e poi si arriva fino ai latticini ecco questo è un po' uno schema che poi verrà riproposto nei trattati rinascimentali successivi in particolare l'opera di scappi che è un trattato mastodontico consta di sei libri è veramente un testo ampissimo che noi oggi ancora leggiamo soltanto nella stampa del 1570 abbiamo un'edizione di questo testo e Bartolomeo scappi che è l'autore ma anche lavorava alla corte papale romana riprende un po' la struttura dei banchetti e quindi ripropone cronache di banchetti realizzate alla corte del papa e nella strutturazione delle ricette poi perché anche in questo testo è presente un grande ricettario troviamo la stessa disposizione per materia che è una disposizione che in parte potevamo intravedere per esempio nel primo trattato del 400 il primo diciamo che esce dall'anonimato perché poi c'è da dire anche che i testi di cucina soprattutto nel medioevo sono testi anonimi compilazioni la cui tradizione poi anche complicata da da rimettere insieme ma diciamo che fondamentalmente fanno capo a due grandi tradizioni e appunto invece maestro martino che è questo trattato che precede in qualche modo messi sbugo è il primo autore primo il primo nome che ci viene dalla dalla storia dalla tradizione dei testi quindi il trattato di messi sbugo è a ragione dovuta un una svolta nel sistema dei testi di cucina e lo è proprio per queste ragioni che l'analisi testuale l'analisi sintattica ha fatto emergere con forza un'analisi che appunto è un'analisi anche diacronica che guarda un po' al passato inevitabilmente per notarne appunto i momenti di scollamento e rivolge uno sguardo anche al futuro e questo grazie devo dire anche a questa banca dati di testi dal medioevo all'unità che sarà presto disponibile per tutti. Quanto al lessico che senz'altro è la parte più appetitosa potremmo dire del studio della lingua di questi testi sul cibo i banchetti erano stati già oggetto di attenzione da parte di una storica della lingua Maria Catricalà che sulla scia dell'interesse che alcuni linguisti all'epoca stavano manifestando nei confronti di queste tipologie testuali Arvigo Castellani ma anche Ignazio Baldelli ecco si nota questa attenzione e sui banchetti in particolare esce nel 1982 uno degli studi pioneristici sul lessico del cibo che è appunto la lingua dei banchetti di Cristoforo Messis Buco di Maria Catricalà dove la studiosa aveva già presentato un glossario delle voci più interessanti del cibo un ampio glossario ecco che dunque per il lessico nella mia edizione ho pensato senza altro di raccorderlo di commentarlo ma in una forma un po' più leggera potremmo dire che è la forma dell'indice lessicale dove volutamente c'è un commento abbastanza stringato naturalmente rispetto al 1982 c'è un aggiornamento della bibliografia e anche della metodologia lessicografica ma volutamente è un indice snello che possa però dialogare con appunto questo strumento che starà presto a disposizione di tutti e cioè il Voslig il vocabolario storico della lingua italiana della gastronomia che invece avrà proprio il compito parola per parola quindi l'essema del cibo per l'essema di analizzare la storia delle parole del cibo dalle origini fino ad Artusi e devo dire che Messis Buco è sempre un po' centrale anche nella storia delle parole del cibo non solo per la sua posizione cronologica ma anche perché rappresenta un po' un serbatoio del lessico precedente, del lessico medievale che viene recepito, talvolta riusato con anche accezioni nuove e poi tramanda anche per la prima volta parole che direi fondamentali del lessico del cibo e per esempio è prima attestazione in Messis Buco la parola tagliatelle che appunto si presentano per la prima volta in una ricetta dedicata a questa preparazione che direi anche molto rappresentativa della cucina emiliana e come anche prima attestazione come torrone che in realtà è un prestito dalle lingue spagnole perché naturalmente la lingua del cibo ha sempre rappresentato gli scambi culturali e linguistici naturalmente tra i vari paesi che entrano in contatto e quale migliore modo per entrare in contatto tra culture, tra lingue se non quella di mettere in condivisione appunto le vivande che caratterizzano i vari paesi. Quindi questa è un po' la descrizione di quello che ho raccolto in questo volume per cui ringrazio anche molto l'editore che mi ha dato spazio, mi ha dato un modo di anche strutturare al meglio queste le porzioni del volume appunto un'introduzione che mettesse un po' insieme gli studi sulla lingua del cibo che si sono accumulati negli ultimi decenni la presentazione dell'autore che di certo non è famosissimo e più ma che ha avuto comunque delle cariche importanti. È stato eletto Conte Palatino, ha incontrato Carlo V, quindi anche la revisione di tutta la documentazione d'archivio che è disponibile su Messis Bugo, conservata oggi all'archivio di Stato di Modena, di cui mi permetto ecco di ringraziare tutti coloro che lavorano all'archivio di Stato di Modena e in particolare l'ex direttrice Patrizia Cremonini che aveva già studiato la figura di questo personaggio e quindi insomma rimettere insieme tutte le informazioni su questa figura è stato molto interessante. A partire dal suo cognome è sempre stato un po' tramandato tutto attaccato, invece insomma le ricerche inducono a pensare che si tratti di un doppio cognome Messis Bugo. Quindi una parte sicuramente più storica di ricostruzione del contesto e della biografia dell'autore e poi naturalmente il fulcro un po' del mio lavoro quindi la nota al testo filologica con le collazioni e le dimostrazioni del caso e il commento linguistico che segue all'edizione critica del testo. E chiudere il volume, lo dicevo prima, questo indice lessicale. Io avrei terminato. È molto interessante, davvero molto interessante. Poi bisognerebbe spoilerare qualche ricetta magari. Allora nel corso diciamo del lavoro su questo testo, anche perché questo testo mi ha occupato come dire gli anni della pandemia, ecco l'unica ricetta che ho provato è quella della frittata che è esattamente uguale alla nostra, però se si seguono tutte le indicazioni viene molto spumosa e Messis Bugo ne propone anche una condita con il caviale, quindi appunto sempre in direzione di una cucina alta. Ecco, questo pure è una caratteristica dei testi di questa epoca e del medioevo, cioè il fatto che la rappresentazione della cucina in questi testi è sempre quella alta, quella dei ricchi, quella dei regnanti anche in questo senso. Quasi mai abbiamo testi che invece provengono e ci rappresentano la cucina del popolo. A volte troviamo dei registri dei monasteri che sicuramente ci presentano una messe di vivande di lessico riferito a cibi molto più poveri, ma siamo anche lì in un ambito molto circoscritto, che è quello del chiostro, potremmo dire. Per avere la cucina popolare dovremmo aspettare sicuramente Artusi. Eh sì, eh sì. Niente, bisogna acquistare il volume, io come mia abitudine ricordo il titolo perché possano correre tutti in libreria, anche se il titolo è difficile da ricordare, però è I banchetti, composizioni di vivande e tapparecchio generale di Cristoforo Messis Bugo. Edizione studio linguistico pubblicato da Olski Editore e ovviamente a cura di Veronica Ricotta che abbiamo avuto il piacere di avere nostra gradita ospite, che ce ne ha parlato e che io ringrazio tantissimo. Mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora Veronica. Grazie, grazie a lei Maurizio e grazie ai video ascoltatori d'Italia Medievale. Grazie a tutti.